La proposta di recintare Campo Marzo è una buona idea? L'ha sentita per la sicurezza? Credo di sì. È una cosa che piace? Sì, sì, sì. È meglio perché così le famiglie possono stare tranquilli, con i figli, con i bambini. No, no, è meglio lasciarlo aperto. Non mi piace. Da un punto di vista estetico lo troverei un errore. E se c'è il problema del degrado, che mettono qualche guardia in più, che facciano il loro dovere. Quelle stesse cifre possono pagare per dieci anni delle persone autorizzate che cacciano via i spacciatori e chi si droga. Non credo che sia una spesa necessaria per risolvere. Non penso che risolva nulla come idea, come progetto, perciò non penso di essere d'accordo. Non credo sia così ostacolante per le persone, comunque per lo spaccio e quindi sì, ecco, penso che continuerebbe a esserci, soprattutto con il recinto. Il recinto sicuramente potrebbe andare bene, sicuramente però chiude il parco e diventa un attimo forse anche antiestetico. Io non lo vedo una risposta inerente a Vicenza. Se cominciamo a chiuderci dentro dappertutto è finita. Sarebbe bellissima e ottima per famiglie, per bambini, per tutti. Ricintare a Campomarzo? Ricintare no, più sicurezza sì. Non so se risolvi il problema. Tratta di spostare semplicemente le pedine da una parte all'altra, non so se qua se da un'altra parte. Quindi questa spesa? Io non la farei personalmente. Perché non serve a niente e diventa tutto brutto, no, no. Capomarzo deve essere aperto a tutti, a tutto. Per me no, perché brucia proprio, è come vedere catenato, come si dice, una persona appunto. È nostro, deve stare nostro, siamo vicentini e deve essere dei vicentini.